siamo sempre noi di scavarichegna mezzanadera amico forza cosa autista 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 saluto dove ci fai vedere oggi a leone va bene però devi guardare davanti stai guidando e guardi guardi davanti autista a ferma sinistra sinistra ci sono le sepre sinistra quello a destra autista grande fragola abbiamo sanders school qua eh facciamo la squadra salutate fragola fragola grande di scavarichegna 1 2 3 Italia Italia 1 questi nostri di scavarini oggi hanno portato tanto fortuna abbiamo visto tutto di tutto adesso siamo per uscire al parco che abbiamo la nostra autista migliore grazie mille autista hai fatto vedere a noi tutto va bene com'è che ti chiami autista andrea enea se venite in kenya ragazzi prenotate con di scavarichegna fragola e vi facciamo guidare dal nostro autista grande enea va bene autista aia oggi con la pioggia siamo riusciti a vedere pure tutto amico mio chi cosa li puoi dire quelli che dicono però sta piovendo o come sarà il safari una parola fantastico leoni dovunque vai discoveri kenya grande ragazzi vi aspettiamo tutto con la pioggia con nuvole partiamo lo stesso per safari aia